Salve a tutti amici artisti, innanzitutto voglio ringraziare tutti per il supporto che mi avete dato con l'altro video, quello che riguarda il film prossima uscita di Avengers Endgame. In questo video invece andremo a curiosare sul futuro dell'emissivo, quindi non perdiamoci in chiacchiere, partiamo con il video. A regalarci le ultime anticipazioni, adesso è direttamente il presidente della Marvel. Sappiamo ormai che Avengers Endgame chiuderà definitivamente la terza fase dell'universo cinematografico Marvel e stando agli studios avremo dei grossi cambiamenti in arrivo. Alcuni di noi in film mostreranno dei personaggi che già conoscete e alcuni personaggi di supporto faranno dei ruoli da leader, mentre alcuni nuovi personaggi verranno introdotti. Ha anticipato Feige durante un'intervista con Variety. Il vantaggio dell'avere realizzato così tanti film è che possiamo riprovarci in maniere differenti. Imparare dei nostri errori e tentare delle cose che non abbiamo mai fatto prima. Una delle principali novità della fase 4 è lo sdoppiamento dell'emissivo tra i film del grande schermo e le serie tv per la piattaforma di streaming Disney+. Gli episodi di quelle serie saranno legati ai film in maniera molto molto forte. Una forma di storytelling totalmente nuova che abbiamo la possibilità di esplorare. Tra le serie già confermate ricordiamo che ci sono Loki e VandaVision, Falcon e Winter Soldier. Per quanto riguarda X-Men e Fantastici 4 non possiamo vederli prima del 2024, perché gli studios hanno preparato la fase 4 dell'MCU prima ancora dell'accordo con Disney Fox. In ogni caso attualmente l'attenzione di tutti è focalizzata su Endgame e ha nuovamente ribadito Feige, abbiamo sempre voluto che ci fosse una fine definitiva nel film. C'è una frase meravigliosa che Downey dice nel film, parte del viaggio è la fine e quello è Endgame. L'hype è decisamente esplosivo, non trovate anche voi? Ci tengo a precisare che tutti i diritti sono della Marvel per quanto riguarda le immagini e i video che ho inserito nel mio video. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like, commentate e condividetelo. Al prossimo video! Ciao! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Invincible 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 Grazie a tutti